Ciao cari amici e cari amiche, gli studenti e le studentesse del terzo anno superiore. In questa unità vediamo che le tre ragazze vanno al centro commerciale per fare spese, per girare e per mangiare, anche per cercare e trovare l'abito per la loro band. Allora, vediamo se le tre ragazze vanno d'accordo o no, ascoltiamo il... Il lessico. Alessia, ragazze, che ne dite di andare a fare spese domani? Yà bane, qual è il ragazze, quando andiamo a fare shopping? Giulia, sono qui ora, io vorrei un giorno per ammettare, non sono un posto. In questa sera, ho provato a fare un'altra sera, nel mattino che ci vediamo il mattino. Alessia, possiamo incontrarci verso le 10.30, così ti vediamo che a le 9.30 si vora. D'ai, che divertiamo? Siamo poter capire fino a 10.30 e qui si sceglie circa 9.30 se ti piace. E' la cosa? Siamo iniziare. Chiara? Chi è stato? Dove andiamo? E' una cosa? E' un'altra cosa? Alessia? 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 Si trova dietro il domo? Neroi al mol detegare giudici. Enti, a te rie, il mol ili, maugud, chalf il domo. Giulia Bene, mi avete convinto ma tu voy comprar qualcosa in particolare? Tammem, ento a cna Informi? Welaken, enti, arche eche da te scegliere chaga mumayesa? Alessia? Veramente si, un paio di scarpi. Poi, giuriamo, mangiiamo, sai Fì l'haggia, è io Raiza, zog من l'ahzìa وبعد كdà, هنتمشa ونacol, ento ho raffin Chiara? O, un dia? Perchè non ci ricchiamo anche qualcosa per il concorso? Non abbiare a modetti che vi stiamo tutti allo stesso modo? Ano عندي fكرة ليه non dorsi bocara alla chaggia alchian al musabica Ihmna misch colonna قبل كdà an'ichna hannilbis كلina benafis l'esloom? Giulia, giusto Anche siamo popresti I quale cedìa? Sahì, chattà l'ho can badri šwai Andic aè fèkera? Chiara, non so Siiamo una rock band Bussiamo vestirti tutti di nero No? Mish'arrafa Ihmna bincon fari band Mumkin nilbis كلina l'on eswed Mish'kidà? Alessia Nero Ma Amai Nero non piachi proprio Perchè non tutti di bianco L'on eswed? L'a, tabعا Nessabali l'on eswed Mish'biyagibni خalص L'a, ma nilbis كلina abiyad? Giulia Si Lavand della gelateria Maki Dai tru viamo un colore che piaccia tutti Ayo Mish'arrafa Giulia, c'è tempo per questo? Allora, domani a chi ora ci diamo appuntamento? All'11.30? Fì e'o attelato, è vero, buc'è un'attività al maggiore nel 11.11? Alessia, all'11.30? Nel 10.11? A come albero, B come bambino, C come cane, D come dado, e fine non avrà, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo. E come erba, F come farfalla, G come gatto, H come hotel, e fine non avrà, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo. Amici, abbiamo ascoltato il dialogo tra le ragazze al centro commerciale. Adesso rispondiamo alle seguenti domande con la risposta corretta. Vediamo. rispondete alle domande. A come si è l'alfabeto che noi cantiamo, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo, e chi si è l'alfabeto che noi cantiamo, e questo è l'alfabeto che noi cantiamo, E' la tua cosa è 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 la Vole comprare un paio di scarpi. Dove vanno le ragazze per far spese? Rauh vien البonati? Al novo centro commerciale? L'molio del tucari. In campania. Rauh l'arrivo. Al vecchio centro commerciale? L'molio del tucari l'adim. Tobremmo. 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 Perchè vanno le ragazze al centro commerciale? Lì il bennet rauhò l'ilmolio del tucari? Per girare e mangiare? Alachan yilifu e yaclu. Per comprare maliette e scarpe? Alachan yishteru t-shirtu azzia. Per tutti i due? Alachan ilhaqtin ma'a bad. Tobremmo. 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 Un chaleere per la loro band. Fì rai Chiara. Il lone l'homla l'azim yikhtaruhu alachan fereitthom? Il bianco. L'abied. Il rosso. L'ahmar. Il nero. Il eswed. Tobremmo. Il nero. Dite se vero falso. Secondo Chiara. Un gruppo roc. Si vaste di nero. Friari Chiara. Fariq roc. Lazim yelbis l'un eswed. Tobremmo. L'agabia. Hiya. Vero. I ragazzi. Anno. Jatro vato. Un nome per loro gruppo. Il chabab. L'agabu. 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 hanno già compratto l'abito per la loro band il baniate scegliero bilfali libsi l'fariqhom l'aggaiba galott falso loro hanno deciso di chiamare il gruppo la band della gelateria هmmo carraro hanno scegliero il fariq bitaahom fariq l'oist cream l'aggaiba falso secondo Giulia non c'è tempo per comprare l'abito della band fi raih Giulia ma fiish wad le shirau ma labis il fariq tob'a l'azim n'lochiz non non betenfi l'kelam yabgà l'aggaiba falso falso fati l'aragat si vanu al chiantro comit shali solo per mangiare l'aragat rachu bess l'elmol t'ugari alchan yaklu l'azim n'lochiz klamet solo solo yaklu solo fati tob'a l'aggaiba falso addormintarsi yanas o yanaim anu yarsi yatadoyok chirkare yabhassan aw yuhaywil komprare yashtari konventre yuknare kredere yaktakid divertirsi yastamta pinzare yufakir portare yartadi aw yahmil sentirsi yashor sveli arsi yastaykiz trovare yagidd vendere yabiyah divertirsi damurire yastamta agiddin faris payze aw faris shopping yatasawok avere appuntamento ladayhi mawad anu yarsi damurire yatadoyok gidden vistirsi dinero yartadi yartadi allon yartadi allon yartadi cani panzi ma raiyok infretta biserra o bismillah ee kalori ii kalori ii kalori ii kalori ii kalori ii kalori ii kalori atsura ii kalori azra azra biyanko biyanko abiyad blue blue kohli jalo asfar grigio romadi marrone bunni nero aswin rosa benbi rosso aahmer verde aghder abiti malebis acessori varri acessorot mutanwya malietta t-shirt apuntamento mawad negatio mahal centro commerciale molto gari qualcosa di particolare شيء mumayez o شيء khas domatina sabah l'gad scarpe aahzee ultimamente aahiran jeans jeans camicha omis gonna jib jacka jacket borsa borsa haqibit yed malietta t-shirt felba sweet shirt pantaloni pantaloon giubbotto matav canotta t-shirt dekhili tuta da ginnastica mele ms riad ockhiali da sole nad rocce ms un paio di scarpe ragazzi cosa fai al centro commerciale e qual è il tuo stile preferito possiamo rispondere a queste domande scrivendo un tema su questo argomento vediamo il tema la mail dino scrivi un email al suo amico paolo per parlargli del suo stile preferito di vestirsi dino biektib email le sahibu paolo alchani yitkallim maaiy عن stileo il mufadl filips tabla ma ninsaysh inno ho yeddi ni 5 klamat lazim aestakdim him gomal aul mgemoore andi hiyya portare yertadi pagare yedfa malietta t-shirt scarpe aahziya moda moda tani mgemoore andi hiyya vestirsi yertadi melaibis un paio di zaugman numero rqm o maas costare yetakallaf elegante anic tabla hao biddi ni mgemoore wahda mish mgemootin nishof maa baad niamil izzi teema o e-mail karo paolo azizi paolo Anche preferisco portare di jeans escarpci sportive E i üst Without Azzitle di jeans E bambini. Il mio style preferito è lo stil sportivo Starli sui costali. Starli democrati è tutti arrivati di personati Grazie di fortuna, corabile le progetti la ferramati L'ho ambirlità di fatto fanno il malebis il ma'rufo. Preferisco andare a fare spese o a fare acquisti nel periodo dei saldi perché in questi periodi ci sono gli sconti per non pagare molto. Anna bafaddol innana azhabo il tasawuk fì fattarati il taghfidot le innifesi il fattarati bibqa fì taghfidot u mich bad fa' kittir. Oggi esco con gli amici per comprare una malietta nera e un paio di scarpe sportive. Anna nagharda ha khurgh ma' l'asdiqa halashan ha scegli t-shirt aswid u zogh min l'ahzea riyadiyah. Nel centro commerciale c'è un negozio molto famoso mi piacce molto. Fil mouli tugheri yugad mahal moshhoor giddin biajibni giddin. In questo negozio la commessa è molto gentile con noi e ci aiuta a trovare il numero delle scarpe a la talia della malietta. mi giui ulli scrive sitte frasi suquesto tema o zan doli paroli dati a kettip 7 gommel عن هذا الموضوع باستخدام الكلمات المطا موضوع الوحدة النهاردة هو in un negozio da biliamanto في محل ملابس وهيديني طبعا 5 كلمات مفروض ان انا استخدمهم في جمل per girare e guardare le vitrine. كل يوم حد انا واصدقائي جوليا وماركو بنروح للمول التوغيري الجدين على شان نتمش ونشاه للvatrinette. مي piacce seguirli la moda e vestirmi in modo elegante. Anche preferisco portare jeans e scarpe sportive. Il mio stile preferito è lo stile sportivo. Io amo gli abiti di Marche Note e gli abiti fermati. Preferisco andare a fare spese nei periodi dei saldi perché in questo periodo ci sono gli sconti per non pagare molto. oggi esco con gli amici per comprare una maglietta nera e un paio di scarpe sportive. Nel centro commerciale c'è un negozio molto famoso mi piace molto. In questo negozio la commessa è molto gentile con noi e ci aiuta a trovare il numero delle scarpe e la taglia della maglietta. A causa degli sconti la maglietta e le scarpe costano poco e non pago tanti soldi. La nostra puntata è finita. Spero che sia utile per voi. Arrivederci!